Mamma mia ragazzi, mamma mia. Certo che ci vogliono proprio le palle a portare un pezzo del genere in una trasmissione televisiva in cui racconti tante storie che sono tanti suicidi concreti, reali, emotivi. Quindi questo personaggio che arriva e lo vedi e dici io voglio sentirlo cantare, parte con questo vocione a parlare, prima è ancora di cantare, parla con questo vocione che copre un disagio eloquente, non è quel coprire il disagio che ti infastidisce, che hanno in genere gli adolescenti, è il coprire il disagio di una persona che sopravvive più che vive e inizia con un brano, la prima metafora dove lui vede una banca, delle persone in piedi davanti alla banca e questo è il primo suicidio che vede. Una critica al materialismo che non è una di quelle critiche che lascia il tempo che trova perché si sente che è sincera, è buttata lì, è un frame, non è che lui si sofferma lì e dice ok adesso faccio la critica per far vedere che... no no no, io racconto una piccola cosa, passa lì, così. È la prima cosa che vedo semplicemente, è la superficie del mondo e quindi iniziamo così, il modo in cui canta, quello che dice, quindi come lo dice, mamma mia. Le storie che racconta, più grosse delle sue occhiaie, racconta se stesso attraverso queste storie. Di questo personaggio, ad esempio, mi pare Pietro, che si butta perché non riusciva più a sopportarsi. C'è chi vive nell'ombra di sua madre, Marco mi pare, che non scopa da un sacco e la gente pensa sia matto. Mi ricorda un pezzo, i miei amici di Gel, un altro bel autore peso, insomma uno che ha fatto il suo, Geluan, Truce Clan, fondatore dei Truce Boys. Però lui è molto più melodico, questo ragazzo qui è molto più moderno. Racconta tutte queste sfumature, sono toccato. Questa è gente che merita di andare avanti. Questo film che si ripete nella sua testa e non si ferma, non si deve fermare. Io consiglio a lui persona un percorso di terapia prima possibile. Ma al suo essere artista, invece, auguro ancora tanto dolore, non me ne voglia, perché questa roba è talmente bella, nel suo dolore appunto, che io voglio ascoltare un disco, una discorrafia. Ehi lì il pip italiano, sto ragazzo. Quando ha cantato lui la vita si è fermata. La denuncia non è solo denuncia, ma non è proprio denuncia perché lui sta giudicando, lui descrive, sta vedendo, ti sta mostrando quello che vede. E a lui sembra non freghi un cazzo di niente, proprio perché vede e sente tutto, perché gli importa di tutto. E se si soffermasse su tutto quello che sente e che vede, impazzirebbe. Sarebbe una delle storie che racconta il prossimo suicidio, appunto. Perché è così presente, sembra impotente davanti allo scorrere della vita, del flusso, ma invece c'è. Lui non è uno di quelli che vuole cambiare il mondo, ha già capito che il mondo non lo cambi. È uno di quelli che il mondo tuttavia lo cambia solo perché esiste, per quel momento, per chi lo vive, per chi lo ascolta. Che bella esibizione. Che bella esibizione.